Mi chiamo Fornare Carlo, ho quasi 65 anni e vengo da Degnano, una cittadina vicino a Milano. Un rapporto personale con le persone, chiaramente non si faceva fatica a sorridere e poi qualche problemino anche dovuto a impianti vecchi che non erano completamente fermi, erano un po' mobili, varie tipologie, altri ponti che non erano fissati benissimo. Ora mi sono deciso a fare un intervento un po' più robusto. Le grosse rinunce non è che ne avessi, però era fastidioso dover sempre far finta di niente quando c'era da ridere così, era brutto insomma. Qualche problema anche con la pulizia perché il cibo si infilava dentro nei posti, siccome erano mobili le protesi si infilavano dentro e quindi poi lasciando piano piano si erano degenerati un po' tutta la bocca quindi ho deciso di fare un intervento. Diciamo che è soddisfacente guardarsi allo specchio e vedere che insomma non sei più come prima però adesso è un po' presto, insomma ho appena messo i definitivi però mi sento già più sicuro di me, insomma. Innanzitutto è stato un lavoro in due fasi, nel senso che ci sono stati messi degli impianti e quindi delle relative abattment e le corone, ma sono stati recuperati anche dai miei denti e quindi delle corone sopra i miei denti. Sicuramente lo consiglierei, diciamo che delle grosse paure così non ne avevo un po' l'incognita del tabbiaggio e dolore ne ho sentito pochissimo, anzi quasi niente, vabbè chiaramente il post un po' di fastidio c'è ma per quanto mi riguarda è stato facile, insomma. Ripeto, sorridere e mangiare anche magari con più facilità, insomma, masticando meglio sicuramente.